Buonasera e ben ritrovati a vita d'atleta. Ho il piacere e l'onore di ospitare quest'oggi una grande campionessa del biatron, purtroppo ex da pochissimi mesi. Non ho mai intervistato nessuno abbia atleta in quest'anno di vita d'atleta, ma direi che quest'oggi partiamo veramente col botto. Signori e signore, ho l'onore di presentarvi la regina della biatron italiano, Michela Ponza. Buongiorno Michela. Buongiorno a voi e grazie per avermi ospitata qui. È un piacere tutto mio, anche perché te l'avevo già detto questa mattina quando ti ho intervistato, ero, ma sono tuttora una tua grande fans. Ci hai fatto veramente emozionare. Innanzitutto, come non chiederti, come mai ti trovi a Livigno? Ma siamo a Livigno perché c'è la neve. È l'unico posto dove noi biatletici possiamo allenare al momento dove c'è sia da poter sciare che da poter sparare. Quindi per noi è una fortuna e siamo contenti di essere qui e ci alleniamo veramente bene. Non sei più atleta, o meglio non sei più un'attività, ma sei allenatrice. Sì, adesso ho iniziato con questo mio nuovo compito. Seguo i ragazzi della Guardia di Finanza, delle Fiamme Gialle e alcuni della B che sono venuti qui. E niente, sto imparando. È tutto un mondo nuovo che devo ancora un po' scoprire, ma mi piace moltissimo. Hai fatto il famoso salto della barricata. Com'è? Devo dire che sto molto bene. Anche in questi giorni che ho visto le prime gare di Coppa del Mondo dove non c'ero anch'io. E devo dire che sì, sto bene, non ho rimpianti. Sto bene in questo mio ruolo. Era proprio giunto l'ora di cambiare. Ricordiamolo, tu hai appeso gli sci e il fucile al chiodo la scorsa stagione, a termine della stagione 2014, per scelta oppure sei stata costretta da qualche infortunio? No, ho avuto la fortuna di poter scegliere io quando dire basta, che penso che per un atleta sia importante, di poter scegliere appunto il momento in cui cambiare strada. Sono stata in Coppa del Mondo tanti anni, mi sembra 18, quindi in questi ultimi anni ho fatto un po' fatica a rimanere lì ai livelli in cui ero già stata negli anni passati. Anche l'età si è fatta sentire pian pianino, quindi è raggiunto il momento ed era il momento giusto anche. Classe 1979, scusa di una signora non si dice l'età, però di una sportiva si può, in quanto sei sportiva dentro e fuori. Insomma sì, tu l'hai detto, l'hai smesso quando hai avuto voglia, quando probabilmente eri anche stressata da una vita piuttosto sotto torchio? Avevo l'obiettivo della mia quarta Olimpiadi di soci, sono riuscita a qualificarmi. Dopo tanti anni si sa che la vita d'atleta non dura in eterno, quindi si sa di dover dire basta a un certo punto. La vita d'atleta sì, non è facile, però se hai la passione diciamo che le cose non ti pesano e diciamo che tante cose ti rendi conto dopo che hai smesso che facevi magari dei sacrifici che però al momento le fai volentieri e non ti pesano per niente. È vero. Ci racconti un po' della tua carriera, come e quando hai cominciato? Ma io ho iniziato da piccolina, sia mio padre che mia madre facevano sci di fondo, quindi già due anni, tre anni mi hanno messo sull'isci per le prime volte. Ho iniziato poi a collegare di sci di fondo a dieci anni. Dopo sono passata al tiro, ho iniziato anche con il tiro a segno e facendo poi appunto queste due discipline che sono unite nel biathlon ho iniziato poi con il biathlon a tredici anni e poi ho continuato su quella strada lì. Scusa Michele, tiro a segno, ci vuoi spiegare meglio di che cosa si tratta? Sì, praticamente solo il tiro con la carabina oppure con la pistola, senza sceppiedi, senza niente, quindi è proprio un'altra disciplina olimpica. È proprio un tiro di precisione, ecco non conta solo prendere il bersaglio come dobbiamo fare noi nel biathlon, però proprio centrare il mezzo, però da riposati, ecco noi siamo stanchi quindi è un po' diverso. In effetti tu hai riconosciuto quale cecchina quasi precisa, la tua percentuale di sbagli al poligono era veramente bassa e era forse dovuta a questa tua prima attività di tiro a segno? Io penso che il tiro sia un po' una dote naturale che si ha, come un po' in tutte le cose, chi è più dotato per la musica, chi per lo sport di resistenza, chi per la velocità, anche il tiro, se si fanno sparare dieci bambini si vede subito chi è più dotato e chi meno. Poi appunto il tiro a segno mi ha dato una buona base, più che altro l'essere precisi nelle cose, nel sentire anche il proprio corpo, la posizione, se è quella giusta o se è quella sbagliata e di fare tutto sempre nello stesso modo, che questo ci permette poi di ridurre al minimo gli errori. È una diceria quella in cui nel biathlon la donna fisiologicamente è più portata dell'uomo al poligono? Ma guardando le percentuali a volte in Coppa del Mondo nelle gare si vede che le donne sparano un po' meglio degli uomini. Non so il perché, io penso anche che il livello negli uomini sia molto alto, quindi magari uno rischia anche un po' di più perché se perde anche un po' più di tempo così al poligono dopo è difficile recuperarlo in pista, da noi forse il divario tra la migliore diciamo è quella che è più in difficoltà e forse è un po' più ampio, quindi si ha più spazio ecco. Io ho letto che invece la donna ha delle cellule che la portano ad una maggiore concentrazione, ma forse perché noi siamo anche abituati a fare più cose, siamo più cose nello stesso momento, anche siamo obbligate e quindi probabilmente quando ci concentriamo su una riusciamo a chiudere tutto il resto e concentrarsi su quello. Così ho letto ma credo proprio che sia verità. Un palmarès il tuo Michela, veramente di tutto rispetto, otto podi in Coppa del Mondo, insomma non sono pochi e credo anche spalmati nel tempo. Sì, penso dal 2003 al 2009 questi otto podi, tanti risultati nelle prime dieci, purtroppo mai una vittoria, però quando uno dà il meglio deve anche accettare che c'è qualcuno che gli arriva davanti. Ci sei andata vicinissima però più di una volta. Sì, per un secondo virgola otto una volta a Oslo, sì, però una volta che si è attraversato il traguardo i sei ma non contano più, quindi la gara è finita. E quale invece di questi po' di ricordi con maggior... di cuore? Guarda, sono tutti belli, il primo perché lo sogni da tanto tempo. Il primo che è venuto? Sempre a Oslo nel 2003. Quindi nel tempio dello sci di fondo mondiale. Sì, 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 che poi è diventato uno dei miei posti preferiti per la pista, per tutta l'atmosfera che c'è, che è molto particolare, una festa per lo sport lì in Norvegia quando ci sono le gare. E poi sì, ne ho fatti tre in un fine settimana in Corea nel 2008, anche lì tre giorni, tre podi, è stato veramente un fine settimana straordinario. E poi, diciamo, l'ultimo nel 2009 era proprio la fine di una stagione, è andata male, facevo fatica sulle sci, la penultima gara è arrivata a questo podio che è un po' sorpresa e quindi ti ripaga di tutti gli sforzi, di tutte le volte che hai tenuto duro provandoci anche quando fai fatica, ecco. Quattro le tue edizioni olimpiche, non è proprio da tutti, eh? Dalla 2002 a Storley City, passando Trino 2006, Vancouver 2010 e Soci 2014, ahimè, hai te nessuna medaglia, è un rammarico che ti brucia ancora, Michela? Beh, ovviamente il sogno di ogni atleta è vincere una medaglia alle Olimpiadi, ho avuto la fortuna, cosa che capita a pochi atleti, di fare le Olimpiadi in casa, a Torino, e ti dico, ho fatto un quinto posto che per me era veramente come una medaglia, anche se poi non ti danno niente, però in casa, davanti agli spettatori italiani, davanti alla mia famiglia, un evento che aspetti da molti anni, ti alleni e ti prepari da molto tempo, è stata una grandissima soddisfazione, veramente. Michela, il tuo palmarès dice ancora di 31 medaglie di campionati italiani, di cui 25 titoli, sei stata, come ho accennato in apertura, la regina del biglietto in italiano sino a pochi mesi fa. Sì, è stata una carriera lunga, adesso ci sono le giovani che si sono messe a fare delle bellissime gare, abbiamo già visto l'anno scorso, adesso già le prime gare di Coppa del Mondo che sono lì davanti a giocarsela, quindi la ruota gira, adesso ho passato il testimone, veramente penso che ci sarà da divertirsi nei prossimi anni. Chi pensi possa essere la tua erede? Ma io penso che nel biathlon un giorno ti va bene, un giorno ti va male, quindi può capitare a tutte di fare dei buoni risultati. Ci sono alcune atlete adesso lì in Coppa del Mondo che hanno veramente delle ottime possibilità come la Karine Oberhofer, la Dorotea Wierer, la Nicole Gontier che sta sparando molto bene, poi c'è la Lisa Vittozzi, la nostra giovanissima che è passata dalla categoria giovani a juniors che però adesso correrà già in Coppa del Mondo qualche volta quest'anno e poi ci sono le atlete della squadra B che stanno lì, si allenano e spero che facciano anche il salto di qualità per piazzarsi bene in Coppa del Mondo. Uno sport, il biathlon, che gode di una fama grandissima a livello europeo, in Germania, Austria, su tutte e purtroppo molto meno in Italia. Come mai secondo te? La fortuna del biathlon è di essere molto spettacolare, la situazione cambia velocemente, dopo un passaggio al poligono da primo magari uno si ritrova a ventesimo e invece quello che è entrato al poligono quindicesimo esce tra i primi e questo rende veramente la cosa molto interessante per gli spettatori. In Germania, in Norvegia, in Russia è molto seguito, mi arrivano ancora adesso lettere che chiedono autografi da questi paesi. in Italia posso dire che negli ultimi anni i tifosi sono cresciuti molto, diciamo a Anterselva i primi anni che ero su, praticamente la maggior parte del pubblico era tedesca, in norvegese, adesso vedo anche sempre più tifosi italiani, questo fa molto piacere. Penso che con le Olimpiadi di Torino sia stata un po', diciamo che il biathlon si è fatto un po' conoscere e tanti si sono appassionati a questo sport e spero che i tifosi aumentino sempre di più, che ne abbiamo bisogno. È vero, anche perché è veramente una disciplina molto spettacolare. In Alta Valle abbiamo la fortuna di avere quel centro viatloni in Val di Dentro, come lo giudichi Michela? La pista da Schirolo e il poligono lì di Isolaccia vanno benissimo, io stessa mi sono trasferita qui per sette anni in estate, da giugno fino ad ottobre per allenarmi perché a casa non avevo queste strutture. Ci sono anche strade da percorrere in Schirolo come il Passo Gavia, lo Stelvio, c'è anche la ciclabile qui a Livigno, diciamo che le possibilità per allenarsi qua in Alta Valtellina sono veramente ottime. Vedo che anche con le squadre ci sono anche tanti atleti di altre nazioni che vengono qui a usare queste strutture. Le fiamme gialle appunto in questi giorni stanno facendo capolino qui a Livigno per la preparazione, vi ha rabattato un pochettino al poligono che non è di prima classe quello che c'è a Livigno, certo basterebbe veramente poco per poter parlare anche di biathlon a livello nazionale e internazionale a Livigno, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, penso che tante nazioni, si vedono già tanti ciclisti e fondisti che vengono qui a fare allenamento di altura. Se si riuscisse a fare un poligono, vabbè sei sagome oppure un po' di più, fino a dieci con una pista da schirol fatta un po' bene, sarebbe sempre pieno di biatleti ad allenarsi qui. È vero, e ce l'auguriamo. Michela, ci racconti una tua giornata tipo di quando eri atleta, magari nel clou della tua carriera, giornata tipo invernale? Invernale? Premetto che il grande lavoro di allenamento si fa in estate, quindi in inverno si rifinisce un po' la preparazione, cerca di recuperare le energie tra una tappa di gare e l'altra. Il calendario internazionale di Coppa del Mondo è fatto in modo che ci sono tre settimane a dicembre, tre settimane a gennaio, tre a febbraio oppure marzo, in base a dove si fanno poi i mondiali o le olimpiadi. Quindi si è praticamente quasi sempre in giro per le gare. Guarda, forse una giornata tipo è difficile rispondere. Sì, è difficile, no? Hai ragione. Allora, entro un po' più nel merito. La stagione appunto comincia nel mese di fine novembre, con le prime gare? Sì, esatto, sì. E termina a fine marzo. Fine marzo, esatto. Raccontaci brevemente questo periodo di questi cinque mesi full immersion. Ma li aspetti con grande ansia perché da maggio che ti prepari, quindi non vedi l'ora che iniziano le prime gare, perché alle prime gare non sai dove sei, non sai se il tuo tempo sull'isci sarà buono o non sarà buono, come saranno le tue avversarie, quindi lo aspetti veramente con tensione. Con punto di domanda. Esatto. Poi una volta iniziate vedi come hai lavorato e su cosa devi lavorare ancora. E appunto, come dicevo, fai queste tre settimane di gare, poi c'è la pausa a Natale, dove cerchi di recuperare energie e poi di fare ancora un allenamento per poi ripartire di nuovo a gennaio. Non si è mai a casa? Poco, diciamo. Se uno fa tutto il circuito di Coppa del Mondo, fa come dicevo prima tre settimane al mese in giro. A parte lì magari dieci giorni a Natale, ecco, che servono, perché un atleta è atleta, però anche una persona, quindi deve anche star bene di suo, ecco, per rendere al meglio. La tua seconda famiglia, quindi anzi la prima famiglia diventava un po' la nazionale, era un bimbo, ti trovavi bene? Sì, devo dire che ho avuto fortuna, specialmente negli ultimi anni, di avere dei compagni di squadra e soprattutto anche molti tecnici molto disponibili e in cui si stava veramente bene anche via di casa. E questo aiuta molto perché il tempo che passi lontano da casa tua è molto, quindi è molto importante. Michela, quindi un mese, forse nemmeno di stoppa, è un mese di aprile e dopo si ricomincia. Dopo si ricomincia, se vuoi andare al mare e star con la pancia al sole, devi andare ad aprile perché se poi lo fai dopo sai già che dovrai portarti le scarpe da corsa, una bicicletta, gli ski roll, quindi stai un po' a casa, poi ti fai il tuo viaggio e poi si ricomincia. La preparazione estiva a 360 gradi è un po' di tutto? Sì, diciamo che il nostro allenamento è molto vario, usiamo sì gli ski roll, sia da patinato che da classico, però usiamo anche la bicicletta, facciamo la corsa, camminate in montagna senza bastoncini, facciamo allenamenti in palestra per aumentare la forza, poi all'inizio maggio-giugno iniziamo con le due discipline separate, quindi si spara al poligono senza correre, senza far ski roll e poi ci si allena atleticamente separato. Poi man mano che passano le settimane e i mesi, luglio-agosto, si iniziano poi con gli allenamenti combinati, come li chiamiamo noi, e poi anche con le intensità che aumentano sempre di più. È più importante saper sparare bene o andare forti sugli sci? Ma guarda, il biathlon negli ultimi anni si è evoluto tantissimo, si è alzato tantissimo il livello, quindi bisogna saper fare tutto bene, sparare bene, sparare veloce e sciare veloce. Non ti puoi più permettere di sbagliare un colpo, di metterci 15 secondi in più o di non essere in forma sulle sci. Se vuoi arrivare lì davanti devi saper fare tutto al meglio. Come si controlla la respirazione quando arrivi affannata dal tuo giro di fondo, poi devi trovare la concentrazione, devi stare più ferma possibile per sparare. Sì, diciamo che cerchi già prima che arrivi al poligono di abbassare un po' le pulsazioni, quindi respiri un po' più profondi e cerchi di anche rallentare il ritmo per far scendere le pulsazioni. Poi tutto quello che succede da quando arriviamo in piazzola, quando andiamo via, è un automatismo che abbiamo provato tante tante volte l'estate e quindi sì, respiri, ma non è che ci pensi consciamente, fai tutti i movimenti uno dietro l'altro, questo sarebbe l'ideale, poi ci sono sempre gli errori e le cose a cui devi pensare. Tra un colpo e l'altro respiriamo, in base a quanto siamo stanchi, tra un respiro a due o tre, dipende. Si sta in apnea quel poco che ci permette di stabilizzare il fucile e poi si ricomincia. E i più forti tiri da sdraiata o da terra o in piedi? Bella domanda, forse all'inizio della mia carriera in piedi e poi adesso alla fine a terra, sì, poi dipende un po' dai momenti di forma, così, poi come sai bene il tiro in piedi a terra sono un po' diversi, con la terra un po' più stabile che sei appoggiato per terra, però il bersaglio è più piccolo, quindi è un diametro solo di 4,5 cm. No, questo magari lo spieghiamo bene per i nostri telespettatori a casa, quindi varia il diametro del bersaglio. Il diametro del bersaglio noi lo vediamo sempre grande e uguale, che è un diametro di 11,5 cm, però a terra perché si chiude bisogna colpire il centro, che è un diametro di 4,5 cm, più o meno così, a distanza di 50 metri sempre. In piedi appunto è più grande, però si è anche meno stabili per gli appoggi che sono più ridotti, solo praticamente in piedi e anche per la stanchezza che poi si fa sentire muscolarmente, che il movimento si accentua. C'era un tuo idolo, Michela? Quando ero ragazza seguivo molto la Coppa del Mondo, si seguono tutte le gare, e c'era la svedese, la Magdalena Fosberg, che ha vinto sei Coppe del Mondo generali di fila. Ecco, io da ragazza mi piaceva guardarla in gara, aveva questa calma, era precisa al tiro, poi ho avuto anche fortuna di correre poi quando c'era ancora lei. Mi ricordo la prima volta, alla prima gara di Coppa del Mondo, sono arrivata al poligono per l'allenamento, e l'ho vista, mi sembrava piccolissima, per la televisione mi sembrava molto più alta, invece più o meno l'altezza era quella. Cosa dire, Michela, di Oleiner Bjordalen, il campionissimo norvegese, ex marito della nostra ex azzurra Nathalie Santer, lui spesso si allenava appunto a Dobbiaco, a casa di Nathalie, hai avuto modo di sciarciassieme, di conoscerlo? Sì, quegli anni lì veniva a volte con noi ai raduni, quindi ho avuto la fortuna di vederlo proprio da vicino, devo dire che lui è proprio nato per fare il bietton, ha proprio trovato la cosa che gli viene meglio, è molto professionale, lui non si accontenta mai, cerca sempre di andare un passo avanti, agli altri, questo sicuramente è quello che lo fa vincere ancora a 40 anni suonati. Suonati, sì. Michela, cosa ne pensi invece del futuro della nazionale italiana? Tu sei diventata allenatrice, magari guardi anche con un occhio più tecnico. Ma sì, abbiamo visto che le prime gare di Coppa del Mondo sono andate bene, i nostri atleti se la giocano lì davanti per le prime posizioni. C'è da lavorare ancora tra i giovani, che praticamente saranno poi quelli che andranno in Coppa del Mondo nei prossimi anni. Purtroppo i fondi per lavorare sono pochi, quindi bisogna veramente centellinare ogni spesa, che sicuramente non aiuta per costruire un futuro. Però abbiamo dei tecnici che veramente organizzano tutto al meglio, cercano di dare il massimo, e speriamo che magari si riesca a trovare qualche aiuto che ci aiuti a lavorare un po' più tranquilli. E passiamo alla parte prettamente tecnica, la carabina. Bisogna essere in possesso della porto d'armi, verrà? Sì, esatto. Bisogna avere il porto d'armi, per i minorenni ce l'hanno poi i genitori. E questo sì, nei viaggi ci rendono le cose un po' difficili, quando dobbiamo prendere gli aerei negli aeroporti dobbiamo essere lì almeno tre ore prima, perché le volte i tempi di attesa, tra check-in e le carte in polizia, prendono molto tempo, però ne vale la pena. Sì, è complessa come arma, come attrezzo. Ma no, per noi il fucile è come per un altro gli sci, o come la racchetta da tennis per il tennista. Non la vediamo neanche come arma, dipende tutto da come la usa. Per noi è un attrezzo sportivo, ci vuole un po' di cura. Diciamo che è nostra personale, non ci viene data, quindi ognuno se l'acquista costa un po', però alla fine ti dura anche un po' di anni. Diciamo che il pezzo in metallo è standard, è uguale per tutti, dopo c'è il calcio che si vede in legno e in carbonio ed è molto personalizzato. ecco, quindi non è che ci si scambiano i fucili, una volta che hai il tuo, ti fai le tue modifiche, te lo adatti veramente al tuo corpo. Sì, sì, ci sono delle modifiche poi da fare e vari punti di appoggio. Io, diciamo, ne avevo anche uno di riserva, perché se rompi quello non sai come fare, ecco, non è che è così semplice prendere un altro adattarlo a te. Che peso ha? Deve avere un peso minimo da regolamento di tre chili e mezzo, però più peso ha più stabile, però più peso ha più fatica a portarlo, quindi devi trovare con la via di mezzo, diciamo che tutti gli atleti sono tra i tre chili e sei e i quattro chili. Vediamo il biathlon sempre in versione skating, gare in passo classico, in alternato, ce ne sono oppure non esiste il biathlon in classico? Beh, il biathlon è nato con il classico, poi quando è uscito lo skating si è preferito concentrarsi su quella tecnica, perché ci evita poi di perdere tempo ulteriore per la sciolina attore delle sci. Diciamo che noi già tra regolare il fucile, prima della gara e testare poi le sci, va via abbastanza tempo, quindi dovendo preparare le sci ancora con la sciolina sarebbe ancora una cosa in più, quindi si fa tutto in skating. Ho capito. Qual è il luogo che ricordi con maggior affetto oppure quello in cui correre era veramente l'apoteosi o qualche ricordo legato a qualche località? Come ho già detto prima, Oslo era il mio posto preferito, ho fatto il mio primo podio e poi è un'atmosfera molto particolare, perché non senti il fanatismo dei tifosi, ma è proprio una festa dello sport. Vedi, il giovedì ci sono sempre i bambini dell'asilo e delle scuole, le tribune sono piene di questi bambini che sventolano queste bandiere norvegesi, più delle volte non seguono la gara perché sono piccolissime, alcuni hanno ovviamente 4-5 anni, però iniziano già da piccoli e ad essere avvicinati allo sport in maniera molto sana, molto tranquilla. E poi anche la gente si accampa lì sulle piste, dorme nelle tende, fanno il fuoco, cucinano lì, è una festa, ecco, un'atmosfera molto particolare che mi piaceva molto. Avete occasione di visitare anche a livello turistico le località oppure gare, allenamenti e testa bassa? Ecco, il tempo è veramente poco, perché tra gare e allenamenti, poi le orarie in base alla televisione che comanda adesso, le gare sono sempre mezzogiorno, le due, le tre, quindi né prima né dopo, tante volte hai tempo, c'è le volte il giorno libero che hai proprio anche bisogno di staccare con la testa dal biathlon perché vivi dalla mattina alla sera per lo sport, un po' riesci a vedere. Comunque se vuoi vedi già tante cose, anche solo quando sei in un aeroporto, in un albergo e con la gente, diciamo che si vedono altre culture, altre persone, a me è sempre piaciuto viaggiare. Michela, quattro partecipazioni olimpiche, una medaglia mondiale, 25 titoli italiani e otto vittorie in Coppa del Mondo, insomma, una carriera non da poco. Devi ringraziare qualcuno? C'è qualcuno a cui devi dire appunto grazie? Per prima cosa, i miei genitori che mi hanno portata a sciare e mi hanno veramente sostenuta, aiutata in tutti questi anni, è difficile, tante volte le situazioni non sono facili, vorresti andare più forte, vorresti andare bene, ma non ci riesci e loro hanno sopportato queste mie, diciamo così, situazioni non tanto rose e mi hanno aiutata veramente, mi hanno sostenuta. poi tutti i tecnici, io ho avuto tanti allenatori in tutti questi anni, da tutti ho potuto imparare tante cose, i miei compagni di squadra che hanno rallegrato le trasferte e poi le fiamme gialle che hanno permesso che il mio hobby diventasse il mio lavoro e adesso anche mi danno la possibilità di poter trasmettere l'esperienza ai giovani e di lavorare come tecnico. E lo stai facendo al meglio. Ti ringrazio Michela Ponza, grazie mille e ancora congratulazioni per la tua immensa carriera. Grazie. Grazie a voi. È tutto per quest'oggi, grazie per la cosa d'attenzione, vi rimando a mercoledì prossimo. Buona serata. Grazie a tutti.